buona giornata amici da massimo fughetti oggi è sabato 30 aprile 2022 anche il mese di aprile se ne va domani iniziamo il mese di maggio con un giorno di festa per quanto riguarda la stampa la i giornali voglio dire insomma i giornali di carta stampata faranno festa e quindi il giorno dopo non ci saranno i giornali insomma il 2 maggio non ci saranno notizie per quanto riguarda le edicole ma ovviamente continueranno in mass media a trasmettere quello che accade durante la giornata oggi dunque l'ultima giornata di aprile domani inizia la stagione balneare e si comincia ad inoltrarci siamo sul punto di inoltrarci verso la bella stagione e speriamo che le situazioni soprattutto per quanto riguarda le notizie che vengono dall'est Europa migliorino perché altrimenti la situazione si aggrava sempre sempre di più ma procediamo con il consueto ordine della nostra rassegna stampa questa mattina a partire dal santo del giorno oggi si festeggia lo vediamo qui nella grafica san pio quinto san pio quinto della nobile famiglia dei ghisieri di bologna visse nel xvi secolo era il 1500 entrò da giovane nel convento dei domenicani fu vescovo di alessandria e poi fu eletto papa con la tiara combatté l'eresia luterana pubblicò il catechismo del concilio di trento e benedisse l'esercito che si confrontò con i turchi nella famosa battaglia di lepanto un suo ritratto è costudito nella pinacoteca di san domenico a fano nel quadro che il torelli dipinse per quanto riguarda la madonna del rosario e a metà quadro c'è un piccolo panorama che si dilunga verso il confine del mare proprio che ritrae la battaglia di lepato è un quadro veramente da interpretare da capire anche per quanto riguarda il suo significato iconografico e passiamo ora alle previsioni del tempo vediamo che il tempo si mantiene buono su tutta la regione speriamo che si mantenga anche nel weekend ovvero anche domani comunque c'è una situazione di assoluta stabilità nelle marche con il cielo prevalentemente sereno ovunque il clima diurno è molto gradevole le temperature massime raggiungeranno i 20 21 gradi e i 20 ispireranno sulle coste da una direzione di ovest dall'interno invece debole per quanto una tensione debole per quanto riguarda la direzione da nord est le temperature sono però in calo comunque fa fresco al mattino ma poi durante la giornata queste aumentano cominciamo la nostra rassegna stampa a partire oggi dal resto del carlino e si parla della vigilia dell'estate il tempo è gradevole il cielo è sereno e si comincia ad avere la voglia di mare di sole insomma di passeggiate di tranquillità di relax vigilia d'estate e di turismo a suon di buche però perché l'aspetto della città di Fano non è certo dei migliori ci sono molte molte strade da riparare strade costellate da buche avvallamenti dossi e gli interventi di bitumatura sono in ritardo e appunto il giornale questa mattina evidenzia come molte strade sono costellate di voraggini i marciapiedi sono dissestati e strisce pedonali che non si vedono più via roma fa i conti con le piste ciclabili non protette via roma è una delle principali vie della città oltre ad essere costellata di buche in entrambe le careggiate deve fare i conti con le piste ciclabili non protette sono molto pericolose la situazione poi non migliora in via della bazzia difficile anche la situazione nella zona a mare in viale battisti viale battisti costellata da buche ma anche da rattoppi viale lighieri invece può vantare un mega un mega rattoppo proprio che si riferisce a degli interventi a dei lavori che sono stati effettuati dall'aset nel mese di marzo buche avvallamenti anche in viale ruggeri mentre la situazione sembra migliorare in viale adriatico che è il viale del lungomare di sassonia una mano al popolo invisibile qual è il popolo invisibile ebbene il popolo invisibile è costellato di tutte quelle persone che sono senza tetto che non hanno un'abitazione e vivono per strada perché sono invisibili perché non avendo un certificato di residenza sono sconosciute alle istituzioni insomma non possono lavorare non possono ricevere una pensione non possono usufruire dell'assistenza sanitaria al forché forché di prestazioni di pronto soccorso ebbene in loro aiuto è giunta l'associazione avvocato di strada un'associazione nata a bologna una ventina di anni fa che si prende cura degli invisibili ovvero di coloro che non hanno i mezzi che sono diseredati che sono poveri lo fa ovviamente del tutto gratuitamente e anche a fano questa associazione ha istituito un punto di riferimento è stato istituito della sede centrale della caritas in via rinalducci e sarà aperto questo ufficio ogni mercoledì dalle mi sembra due ore dalle 17 alle 19 appunto di tutti i mercoledì e vediamo che anche a fano la situazione dei senza tetto forse non è percepita nella sua giusta entità ma è abbastanza rilevante pensate nell'ultimo sondaggio effettuato dalla caritas è risultato che ci sono 86 persone senza fissa dimora è un dato veramente rilevante che fa riflettere ristoranti e bar c'è una gran sete di personale il titolo capare nella nella seconda pagina del resto del carlino dedicata a fano i giovani cambiano le abitudini la confesercenti lancia l'allarme le attività del settore hanno difficoltà a completare lo staff per la stagione estiva è uno dei quei lavori definiti precari temporanei che si adattano un po alle vacanze estive degli studenti ma gli studenti sono ancora impegnati a scuola la scuola finisce a giugno poi molti dovranno sostenere l'esame di stato e quindi al momento l'idea di prendere un lavoro insomma è un po lontana comunque il 95 per cento delle attività locali del settore dei bar dei ristoranti degli alberghi ha difficoltà a completare lo staff per la stagione estiva ed è questa la sconsolata denuncia della confesercenti di fano sempre più preoccupata per la tenuta delle piccole imprese quelle che non possono contare sul sostegno familiare passiamo ora a marotta dove vediamo che il sindaco barbieri disciplina la movida e lo fa con una ordinanza scatta l'ordinanza che pone i limiti alla somministrazione di bevande e agli orari di apertura dei locali in modo particolare sul lungomare si punta su una movida che dovrebbe anche inquadrarsi in una situazione di ordine pubblico governata contenuta nello specifico dal 6 maggio prossimo al 30 giugno per l'intera fascia costiera dalla ferrovia al mare sarà vietata la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da mezzanotte alle 7 del mattino eccezione fatta per gli avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi appunto seduti al tavolo uno può bere in un bicchiere di vetro ma poi se si alza non può portare in giro il suo bicchiere per poi magari abbandonarlo per strada con i vetri rotti come accade solitamente e poi ci sono gli ultimi fuochi della sagra dei garagoi a marotta sagra alla volata finale oggi e domani tra gusto musica e tradizione ebbene si terranno oggi domani le ultime due giornate di questa settantatresima edizione della festa tipica di marotta organizzata dalla proloco con il patrocinio e il sostegno dell'amministrazione comunale saranno saranno altri due giorni all'insegna del gusto della tradizione del divertimento durante le quali non mancherà neppure l'attenzione a certi problemi sociali infatti saranno presenti in piazza il gazebo della croce rossa della protezione civile fa di bruno e dell'associazione onfalos che si occupa appunto dell'autismo onfalos è un'associazione di familiari di ragazzi appunto che sono autistici e lotta si impegna perché questi abbiano il dovuto sostegno la dovuta protezione veniamo ad urbino vediamo ad urbino dove il sindaco gambini striglia l'europa sull'agricoltura va a bruxelles compie una missione appunto a bruxelles dove lancia un appello per quanto riguarda un cambiamento nella gestione dell'agricoltura il 5 per cento dei nostri campi per delle norme europee sono costretti a restare senza coltivazioni e questo in una situazione che molto molto mutata rispetto a un anno fa rispetto a due anni fa per quanto riguarda l'agricoltura anche locale merita appunto un cambiamento e poi il sindaco gambini dice no ai contributi a chi non coltiva perché tenere fermo un campo non merita avere un reddito che proviene dall'europa mille volontari e il trionfo del carnevale e qui siamo a fossombrone fossombrone cresce l'aspettativa per la tre giorni in programma dal 6 all'8 maggio ci sarà l'apertura con la grande sfilata e poi i giochi storici del trionfo del carnevale una manifestazione storica che a fossombrone raduna moltissima gente si tratta di una edizione speciale perché viene definita l'edizione della rinascita dopo il blackout e dopo la sospensione degli anni scorsi ebbene questa iniziativa è stata presentata nella giornata di ieri in municipio dal sindaco massimo berloni dal vice sindaco chiarabilli e dall'assessore federica romiti oltre al presidente della proloco diego tramonti ebbene una delle novità di questa edizione è la possibilità di entrare gratis nei musei cittadini in tutta la tre giorni ebbene fossombrone è una città che è ricca e molto molto interessante per quanto riguarda il suo sistema museale ricordiamo che nella zona di san martino c'è appunto tutta la forum semproni di epoca romana e da qui sono giunti molti molti reperti che sono custoditi nel museo di fossombrone un museo di fossombrone che poi riunisce anche oggetti che provengono anche dal circondario ma non solo poi la chiesa di san filippo la quadreria ci sono tante cose belle da vedere a fossombrone meritano dunque una visita bilancio disastro pieno di errori e anche un salasso per i cittadini e nei questi giorni le località della nostra provincia i comuni della nostra provincia provano i bilanci ovviamente c'è reazione contro reazione in questo caso è l'opposizione di fermignano che insorge contro l'approvazione del bilancio della giunta viene definito un bilancio disastro pieno di errori e anche un salasso per quanto riguarda le imposte applicate ai cittadini e a questo punto veniamo alla pagina di pesaro dove si parla soprattutto di spiagge parliamo di spiagge un piacere parlare di spiagge ma anche perché ci sono dei problemi ci sono problemi che vengono evidenziati dall'aumento dei prezzi sono 30 40 euro in più rispetto all'anno scorso che provengono dall'aumento delle utenze che è a carico appunto dei concessionari vediamo il titolo spiagge stop alla regola dei 10 metri quadrati la regione ha dichiarato che questa regola è sospesa non c'è più gli ombrelloni potranno essere anche riavvicinati si saranno dunque più ombrelloni ma i prezzi aumenteranno la regione cancella la principale delle limitazioni legate al covid bene ma non torna la situazione del 2019 ranocchi dei bagni mare vivo ci saranno dei rincari sull'ordine dei 30 40 euro dovuti ai costi delle utenze i bagnini si riallargono con cautela una mareggiata e cambia tutto quindi bisogna prestare attenzione stare attenti balneari sono le prese con il ritorno al passato sulle distanze la via di mezzo è tra gli 8 e 10 metri quadri per ogni ombrellone insomma questo è un po lo spazio che viene dato all'utente al cliente che affitta un ombrellone e qui abbiamo il funerale dell'appuntato dei carabinieri che è deceduto in seguito a un in seguito al suicidio appunto da lui stesso da lui stesso attuato andrea il strata di andrea giommi andrea il tuo sorriso sarà il nostro ricordo e appunto si parla dell'addio all'appuntato con la presenza del questore ci sono sono stati presenti anche i vertici regionali dell'arma e don marco il parroco lo ha definito un amico affabile e generoso insomma qui vediamo anche il volto sorridente di questo appuntato in un momento sereno della sua esistenza purtroppo dopo è accaduto il peggio e parliamo ancora di antenne a pesaro perché è un problema che tiene banco e rimbalza di quartieri in quartiere da storia a monte granaro insomma ci sono diverse situazioni preoccupanti l'arpam teniamo sotto controllo le antenne in tutta la città il fisico giorgio catenacci che è direttore tecnico scientifico dell'agenzia regionale dice che le emissioni sono tutte al di sotto dei limiti consentiti e le 5g è fondamentale all'interno delle fabbriche per così per attuare la sicurezza dei lavoratori comunque è comprensibile la preoccupazione dei cittadini ma i nostri rilievi ha detto catenacci devono rassicurarli perché è quello che è stato fatto dice che tutto al di sotto della norma poi bisogna vedere se la norma veramente tutela la salute dei cittadini ma questo è un altro discorso la figlia prenderà il cognome della madre primo caso dopo la sentenza della suprema corte pesaro il tribunale di pesaro non ha aspettato i tempi una bambina che poi è residente nel fanese con la sua mamma avrà il nome della mamma accanto a quello del padre padre e madre erano separati la bambina viveva con la mamma e il giudice ha ritenuto giusto non appena la norma è stata approvata applicare appunto con una sua sentenza il cognome della mamma unito a quello del padre alla bambina e quindi la bambina avrà due cognomi ed è uno dei primi casi in tutta Italia che si è verificato dopo l'approvazione della norma vediamo qui la fotografia di Giuseppe Fanulli presidente del tribunale e sopra Andrea Nobili il sorpasso bersagliato dai ladri sarà la quarta volta che vengono è un locale che si trova sul San Bartolo ancora un furto anche se il buttino è piccolo sono stati rubati soltanto poche decine di euro dalla cassa si tratta di un locale situato sulla panoramica però insomma il titolare è piuttosto arrabbiato in quanto non è la prima volta che i ladri si fanno vivi e sembra che insomma ci siano stati parecchi furti nel giro di 12 anni in cui è stato attivo il locale e poi si parla dell'itinerario della bellezza un opuscolo anzi non più un opuscolo ma un vero e proprio libro il cui volume aumenta sempre più edito dalla cofcommercio che evidenzia tutte le bellezze della provincia ebbene ora ne fanno parte 16 comuni che vengono che vengono appunto elencati con le loro bellezze in questo strumento di grande promozione turistica ci sono tre new entry e sono i comuni di apecchio cantiano e san lorenzo in campo e appunto ieri è stata presentata villa imperiale la nuova edizione di questo strumento di promozione turistica vediamo ora le pagine del corriere adriatico vediamo che su fano si apre con l'articolo degli avvocati di strada per i diritti dei senza tetto la caritas offre una sede all'associazione l'abbiamo detto in via rinalducci associazione nata a bologna 86 intercettati nel 2021 quelli che sono senza fissa dimora nella nostra realtà locale e poi una notizia in attesa forse nessuno se l'aspettava il film girato a fano criminali si diventa è stato premiato a canne quale migliore film straniero canne in francia appunto viene premiato un film italiano ma non solo un film italiano un film girato nelle marche e in modo particolare anche a fano è stato girato in piazza 20 settembre qualche mese fa con tante comparse con tanti attori proprio residenti a fano il deputato rossini ieri ha annunciato questa notizia e qui ci sono anche delle dichiarazioni di compiacimento per quanto avvenuto hanno travagliato per il covid un avanzo simbolico a teatro abbiamo detto che si parla di bilanci in questo periodo nel territorio provinciale e nel consiglio comunale di fano che si è svolto l'altra sera si è approvato anche il bilancio della fondazione teatro per quanto riguarda il consuntivo del 2021 un anno difficile un anno caratterizzato soprattutto dalla pandemia dai primi sei mesi di chiusura di attività prodotte online e poi in una seconda metà dove invece la presenza è stata ammessa è stato un anno comunque dicevo difficile da sostenere ma un anno produttivo perché il bilancio si è chiuso con un piccolo piccolo attivo ma un piccolo attivo importante in situazioni così complesse 6.600 euro insomma questo è un po' il attivo che si è prodotto a livello contabile ma molto di più conta invece il bilancio delle attività della lirica della prosa della musica dei concerti che si sono realizzati a teatro e soprattutto il risultato ottenuto nei confronti dei giovani e in questo senso ha relazionato la presidente della fondazione teatro katia mati in consiglio comunale evidenziando come l'attività teatrale ha interessato moltissimi giovani che sono venuti a teatro e continuano a venire quindi un'opera di collaborazione con le scuole altamente proficua opera strategica con vista sul mare un altro argomento che è stato trattato nel consiglio comunale dell'altro giorno si tratta del secondo stralcio della ciclo via adriatica un uno stralcio che si collegherà a quanto realizzato già a ponte sasso uno stralcio su cui però sono state evidenziate delle critiche perché farlo verso il mare e non a monte della ferrovia così è stato dichiarato dalle opposizioni anche da alcuni residenti quali temono appunto per la fragilità di questa infrastruttura esposta alla violenza delle mareggiate l'amministrazione comunale però ha preferito realizzare l'opera come una passeggiata come una infrastruttura di carattere turistico piuttosto che una ciclo via di attraversamento dove chi va in bicicletta cammina e va non guarda nulla perché non c'è nulla da guardare invece passando sulla fine della spiaggia con la vista a mare la situazione certo è più gradevole belle idee ma non per torrette ha incalzato la lega che ha manifestato le sue riserve intorno a questa delibera e poi nello stesso consiglio comunale si è parlato del restauro del bastione sangallo una delle emergenze storiche della nostra città l'impegno dell'amministrazione comunale è quello di riprendere il progetto realizzato redato a suo tempo dall'architetto Cuppini che si è impegnato in diverse emergenze monumentali della nostra città e quindi di far sì che questo monumento realizzato nel XVI secolo a difesa della città in modo particolare dall'incursione dei turchi possa risplendere e possa avere una fruibilità interessante magari anche con le uscite di sicurezza annuncio shock del sindaco a Fossombrone abbattiamo tutti gli alberi gli ipocastani lungo via le martieri della resistenza sono cavi e malati purtroppo e dovranno essere abbattuti sono risultati inidonei anche per la mancanza di acqua che scorre in superficie e non riesce a penetrare appunto nella terra a Marotta e qui siamo a Marotta per quanto riguarda l'ordinanza del sindaco Barbieri Movida freno agli eccessi intitola il Corriere Adriatico provvedimento sperimentale che riguarderà soprattutto il lungomare si tratta appunto di quella ordinanza che sarà in vigore dal 6 maggio al 30 giugno è comunque un'ordinanza sperimentale al momento che fino al 30 giugno potrà essere poi modificata o integrata con ulteriori limitazioni a seconda degli effetti che avrà assortito che avrà procurato passiamo ora a Senigallia dove vediamo che le multe vengono effettuate con una certa progressività però i cittadini non pagano un cittadino su due non paga la multa afferma il titolo e c'è una forte sacca di evasione sono stati recuperati in questo settore 3 milioni di euro è stato votato questo è risultato un po dal rendiconto di gestione del 2021 in gran parte erano mancati i versamenti di IMU e di Tari e si è scoperto appunto dall'opera di accertamento della evasione e poi nuovi intoppi per l'escavo del Misa tutto rimandato fino a settembre la regione interviene e afferma i soldi dovranno essere spesi entro un anno altrimenti per non perdere dovranno essere spostati in altri settori e dunque questo è emerso dalla conferenza dei servizi che si è riunita giovedì scorso e non ha autorizzato ancora lo smaltimento in mare dei detriti che dovranno essere rimossi dallo scavo sulla pagina sulla pagina di pesaro vediamo che si parla di alienazioni patrimoniali beni all'asta il comune questo è il titolo il comune ci riprova con i vecchi ex poliambulatori dell'asur in tutto sono 11 immobili che il comune pone in vendita tra cui anche uffici di via 11 febbraio è un potenziale di quasi un milione e 700 mila euro di incasso le offerte dovranno essere presentate entro il 6 giugno prossimo sono diversi gli immobili che vengono messi all'asta si tratta di tre negozi in via pio la torre a montecchio poi abbiamo un fabbricato colonico in via valcelli a ginestreto un altro fabbricato in via madonna di loreto l'ex delegazione di villa fastigi un terreno edificabile con sovrastante rudere in via condotti e altri beni insomma sono elencati in questo articolo consulta a pesaro la prima sentenza sul doppio cognome il tribunale ha accolto il ricorso di una madre per la figlia minorenne i legali caso ancora più singolare perché i genitori non erano sposati erano soltanto accompagnati e quindi una novità nella novità per quanto riguarda l'applicazione della nuova norma che permette appunto ai bambini di assumere un doppio cognome questo per le pari opportunità sia il nome e il cognome del padre che quello della madre e poi non possiamo non parlare di un giorno particolare che pesaro vivrà è la nuova ordinazione vescovile appunto del presule che governerà la diocesi dopo appunto il pensionamento di monsignor coccia maxi schermi è un'intera piazza per il saluto del nuovo vescovo vediamo qui la foto di donne salvucci che sta per diventare vescovo appunto di pesaro domani l'ordinazione e l'ingresso con grande festa con la partecipazione di tante personalità e di tanti fedeli era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta e vi dà appuntamento appunto al 3 di maggio con la rassegna stampa alle ore 7 buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata Grazie.